Musica Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video su The Sims 4 E ci sono delle persone che non conosciamo qui in mezzo Chi siete? Camilla Esposito e Elena Rinaldi che non fanno parte di casa nostra eppure sono qui Comunque forse sono in zona per questo Intanto volevo dirvi una cosa, come vedete già in basso ho 20.000 simoleon E sì, ho usato i trucchi Sì, perché mi ero reso conto che avevo speso 12.000 in quadri senza farci caso Perché spesso non vado a spese quando vado a decorare casa E ho usato i trucchi, sì Mi sono serviti altri circa 30.000 simoleon per finire casa E ve la faccio vedere completa adesso Olè, eccola qua Ok, partiamo in basso Giriamo subito, partiamo subito Questo sarà il nostro bellissimo soggiorno Semplicemente maestoso, straordinario Incredibile Sì, questo è il nostro Poi questa è la cucina che non avete visto perché non avevamo i soldi Ed è una signora cucina secondo me L'ho finita sempre io, non vi preoccupate Non ha fatto nulla a Raitina Eh, il tavolo era abbastanza indeciso come farlo A parte che ho dovuto, non mi ricordo che cosa fare Vediamo Ah, ho spostato la porta Perché non c'entrava Comunque l'ho fatto per 4 posti Questo sarebbe fino a 8 persone Però noi ne sfruttiamo 4 Perché sennò volevo mettere un'altra sedia qui Però non avrebbero poi usato il forno Eh, sì, il forno, il piano cottura Ok, quindi l'ho fatto bello bello come potete ben vedere Mi piace tantissimo Poi questi erano i nostri due bagni Ho fatto qualche piccola modifica anche al bagno Ho messo giusto così Altri due piani E ci ho messo poi le candele Se vogliamo metterci qualcos'altro ce lo mettiamo Da questa parte il bagno come ve lo ricordavate Non ci ho fatto nessuna modifica Poi le stanze da letto Quelle che non avevamo visto O almeno, se non mi sbaglio, questa l'avevamo vista Ok, ah no, sì Questa qui l'avevamo vista Che è una delle, abbastanza bella questa Poi vediamo quale altre modifiche farci E questa è per nostra figlia Un po' più moderna come potete ben vedere Un letto, sì, molto più moderno Anche l'abbigliamento Cioè l'abbigliamento I mobili, possiamo chiamarli Ok, questa quindi sarà la nostra casa ragazzi Poi vi faccio vedere anche come ho fatto fuori Se non ve l'ho fatto già vedere Non mi ricordo nulla in questo momento Sono una persona che non sa nulla E il perché non mi fai vedere il tetto Vabbè comunque ragazzi C'è anche una specie di tetto qui sopra Che non mi ricordo Vediamo un attimo se facciamo così Eccolo qua Questo sarà il nostro tetto Anche se effettivamente è rosso Non è che ci sta tanto bene Però ce lo facciamo a piacere ragazzi Spero che vi piaccia alla fine Raiden King come ha fatto la dolce casa Va benissimo? Ok Intanto continuiamo con i nostri sim Che c'è chi ha fame Chi ha sonno Ok, mandiamoli a dormire nella loro nuova casa Ok, te devi andare a dormire Te devi andare in bagno Ok, il bagno sarà questo Il loro Usa Poi le mandiamo a dormire anche lei La nostra figlia Sì, te sei stanca C'hai tutti i problemi Tu li tieni Ok, vai a scuola Quando hai la mente concentrata Vabbè Quindi non ci interessa Quello che devi fare adesso Possiamo Vediamo Non ho fatto nulla di granché Nel senso Nulla di granché Per quanto riguarda alcune cose Intanto direi Di andare a fare un po' di pesca Ok Iniziamo quindi Le nostre nuove avventure Nella nostra nuova casa Spero vi piaccia Ragazzi A me Soddisfa Aver raggiunto Un simile risultato Non è male Vediamo un po' Intanto il nostro sim Se ne va a dormire Nella sua Bella stanza nuova Ti piace vero? Intanto Veronica Acquisito L'abilità di pesca Ottimo Sei contento? Penso di sì Ok Intanto andiamo a vedere La nostra sim Beh si lava le mani Nella sua nuova casino Arredamento gradevole Ottimo Abbiamo messo anche un paio di tappeti Ok Si cambia Se ne va a dormire Altro che in monolocale Adesso si sta bene Intanto qualcuno qui è triste Ma qualcuno qui dovrebbe Dimagrire magari Intanto l'abbigliamento Non l'abbiamo ancora toccato Alla nostra sim Perché penso che lo faremo A breve No no Invece l'ho toccato Proprio così Va benissimo Te continuo a pescare Anche se sei uscito Abbastanza cicciona Non so da chi hai preso Per essere così cicciona Eh Chi si pesca Chi Con chi si fa Fa Smagri O ciccioni Si esce sempre ciccioni Ragazzi Sì Abbiamo fatto mangiare troppo Poca attività fisica Ragazzi Sì Poca attività fisica Ok Intanto Chi siete Che giri qua Nel nostro quartiere Fuori casa nostra Chi sei Edoardo De Luca Cosa vuoi Vuoi rapinarci Vuoi rapinarci No te ne devi andare Va bene Vai via Vai Sciò 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 Vedi chiamo la polizia Ma io che vai di corsa Ok Bravo Inutile che ti metti Un camice e cravatta Sei un cattivo Ok Intanto aspettiamo Sono le 10 di sera E domenica E il giorno successivo Tutti al lavoro Vero Ma penso proprio di sì Ma io dico di sì Ok Intanto il nostro sim È vicino a una prossima promozione E ci interessa Anche se abbiamo usato i trucchi E qualcuno potrebbe arrabbiarsi con me E vabbè Scusate ragazzi Non lo faccio più Intanto Qui abbiamo Voglia di mangiare E chi ci preparerà Da mangiare Se non la nostra sim Ok Possiamo cucinare Tipo Possiamo abilità di cucina 5 Forse non abbiamo cucinato ancora nulla Possiamo fare dei toss francesi In formato festa Ok I pesci di questa zona Sembrano essere Troppo scaltri Per Veronica Eh sì Si è scarsa Ok Magari te ne vai a dormire Bravissima Sali le scali di casa Ok Bel soggiorno Buonanotte amica mia Ok Intanto aspettiamo Andiamo alla velocità della luce Ah no Sei svegliato il nostro sim Ok Vai a fare la pupu Mentre la nostra sim Sta continuando a dormire Magari Vedi se c'è qualcosa da mangiare Ok Sì C'è ancora un po' di torto Oh attenzione Furente Perché furente Vediamo un secondo Farneticamento Per il tratto folle Addirittura Potresti infuriarti Perciò Quindi facciamo attenzione Ti piace il bagno? Penso spero di sì Abbiamo messo un po' di impegno Per farlo Ok Intanto te Continua Vai Mangia Mangia Ok Magari Poi te ne torni a dormire Perché vedo che sei ancora Abbastanza stanco Non ho televisione Niente al momento Ok Jessica De Angelis Sveglia Dai andiamo a cucinare qualcosa di buono Ok Ti piace la nuova cucina? Di la verità Ti piace la cucina nuova? Ti piace la cucina nuova? Vai vai Cucina Cucina Ok E quanti tost hai fatto? Tutti così Cioè Ne hai cucinato uno Ne sono usciti venti? Ok Mamma mia È buono? Mmm No Sembra ancora dormire La nostra sim Ok Adesso è flertante Però ricordiamoci Che ha bisogno di divertimento Magari andiamo A fare un po' di zapping Vediamo un po' Come si troverà A fare zapping Mangiando Ok Senza problemi ragazzi Abbiamo anche questo Bellissimo vaso Dai Intanto guardiamoci Un po' di Travel Adventures Di The Sims 3 E dai Magari ripulisci un po' Non facciamo I tozzosi schifosi In questa casa Che bella nuova Per pulirla Ci vuole L'eternità Quindi Facciamo attenzione Tanto un po' di igiene Oh Possiamo farci Una doccia Attenzione Abbiamo messo pausa Sì Abbiamo la vasca Perché non sfruttarla Il bagno Il bagno con la schiuma Sicuramente Dai Vai con le bollicine Da quanto tempo Da quanto tempo Dai Facciamoci Anche una bella fotografia E intanto Controlliamo qua Qualcuno C'ha fame No C'ha di nuovo fame Diverso il fatto E magari ti facciamo vedere Anche a te La televisione Bellissima Facendo un po' di zapping Vediamo qua Intanto te Che problemi hai Vescica E fame Non entrare nel bagno Di mamma Bravissima Capisci subito Tutto all'istante No Ah mi ero dimenticato Che questo rende Giocosi Non flirtanti Mi ero dimenticato Bull Guarda come si diverte La nostra Jessica Ok Dai Continua Poi vediamo Te per il lavoro Che problemi hai Ah ma tutto ok Dobbiamo solamente aspettare La promozione A livello 8 Ottimo direi Magari liberi Finisce a liberare Un po' la vescica Anche se Non è un problema Evidente Te che sei triste Perché non te ne vai Un po' a mangiare Vai con i toast francesi Tanto Osservo un oggetto Flirtante Attenzione Tanto noi abbiamo Un cibo davvero Deliziosissimo Se vediamo Che cos'è Ah qualità eccellente Non male Vediamo un po' Il nostro sim Intanto Cioè vuoi mangiare Oltre a divertirti Devi anche mangiare E poi fai zapping Cioè solo alla fine Tanto la nostra simina Voleva un po' conversare Ma sembra di no Vediamo Magari dai Fai un po' di zapping Anche te Così socializzate un po' Intanto la nostra sim Giocosa Oh Mamma mia Come si vogliono bene Intanto la nostra sim Fai il troll Nei forum Va benissimo Te hai bisogno Di essere concentrata Per essere concentrata Dovresti Farti Vediamo No quella ispirata No Come può essere concentrata Non mi ricordo Come potremmo farlo raggiungere In carico No Andare a scuola Con un'emozione positiva E fare i compiti E fare i compiti In modo Va benissimo No Non mi viene in mente Come raggiungere Il tratto concentrato In questo momento Fa nulla Intanto potresti Vediamo qua che dice Abbraccia Va benissimo Abbraccia il tuo papino Vediamo un pochino No Che cacchio stai facendo Ok Lei va al lavoro È al lavoro A scuola Ha anche la nostra sim Ok Spetti Mettici No Benissimo com'è Te Vabbè Scherzo i colleghi No Cosa stai facendo Tu invece Non lo so Vescica Magari ripuliamo Un po' questo schifo Perché no Ok Facciamo qui Ripulisci Una volta che hai fatto La pupù Ah intanto Beve anche Cioè Fa pipì E fa cacca La cacchina E beve anche Ma mi sembra logico Ah Ce l'hai ancora qua Intanto L'hai posato un attimo Ah per scaricare No Mi sembra Logichissimo Logicissimo Logibizissimo Ma sei proprio Una persona Indeligentissima Ok Intanto Che farti fare Te sei vicino Alla promozione Si Come la tua mogliettina Però direi Di aumentare L'abilità Di Programmazione Magari Creando un virus Che non abbiamo Mai fatto Ah intanto Insegnante Sotto stress Insegnante Ah ok Dobbiamo fare Leggi qui Perché praticamente C'è casino In classe Vero Vediamo Di stare in classe In silenzio Legge Veronica Devi farlo O provare a fare Altri compiti No no Fai un po' Di compiti Perché loro Stanno a leggere No Leggi Vediamo Lei cerca di leggere Ma non riesce A concentrarsi Perché pensa Alla montagna Di compiti Alla fine Della lezione Non si ricorda Nemmeno Cosa Letta Ok era l'altro Ma Vabbè Ok qua si resta In silenzio Mai rivelare La propria fonte Intanto aumento Medio del rendimento Perfetto Intanto altri soldini E te cosa stai facendo Stai creando un virus Cattivo Si cattivo Intanto era meglio Fare i compiti Non mi ricordavo bene Ok intanto Perché crei virus Cioè chi è che vuoi male Che crei dei virus Cioè fammi capire Ok intanto vediamo Il computer Avete detto che è brutto Ragazzi Costa tanto È di John Milton Cioè voi non conoscete John Milton Cioè sicuramente Alla suo Ai suoi tempi Non c'era il computer Però è John Milton Cioè ragazzi Paradise Lost C'è un grande John Milton Cioè non è nessuno Però è un grande Cioè nessuno proprio Una persona Molto importante Nella letteratura inglese Comunque continuiamo Con il nostro computer John Milton Speriamo che sia bravo Come lui Ok Sfruttando uno spazio Di ricerca nel buffer Per numeri troppo piccoli E con troppi segni Che non è stato Rettificato Manuel è riuscito A infettare Migliaia di sistemi Obsoleti Attenzione Attenzione Questi zombie Informatici Hanno sovraccaricato Le reti bancarie Internazionali Sfruttando Il 171 Smoleone Attenzione Il cattivone Si fa i soldini Con la programmazione Intanto Hackeriamo Anche qualcosina Andiamo Sul Sui elenchi postali Oppure Il fondo fiduciario Il fondo fiduciario Vai che I nonni Mettono i soldini Per i nipotini Ok dai vai Hacker 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 Vogliamo i soldini Sicuramente Un computer Un po' più bello Dovremmo comprarlo Anche se questo è magnifico Intanto raggiunta La programmazione Di livello 5 Può svolgere Del lavoro Freelance Che sarebbe Intanto Promossa Giornalista Investigativa Attenzione Più 62 ore Più 62 Simoleone Allora Attenzione Intanto Globo Dove devo andare Va benissimo Ma grandissima La nostra sim E' avuto una promozione Degna di nota Vediamo intanto Cosa dovresti fare Raggiungere l'abilità Di scrittura 9 Guadagni A 3000 simoleone Con articoli Va benissimo Siamo finora A 1750 Quindi Dobbiamo finire Il computer Uno solo Magari Dovremmo fare Una nuova postazione Per computer E direi Di farla proprio Adesso Andiamo subito Subito La mettiamo Su questa parete Qui Andiamo in No sala da pranzo No studio Eccolo qui Ok Una scrivania Una scrivania Abbastanza comoda Tipo Questa O questa No quella è da disegno Ok questa qui Però naturalmente E' un colore Molto diverso Ok Tipo così La mettiamo In modo da Creare Meno problemi Possibili Poi Naturalmente La nostra Sedia da scrivania Ultra comoda Oh questa qua Dove si sblocca Ok Agente segreto Ok Più o meno La stessa Però questa volta Magari la facciamo Bianca Anche se non ci azzecca Nulla Ok Vogliamo il super Pitchy potente Che sarà Computer da lavoro Ghostwriter Che scompare Addirittura Che computer Magnifico Videogioco Programmazioni Comicità E scrittura Vediamo gli altri Affidabilità 5 Arrietamento Fiducioso Ok Vediamo Indistruttibile Ok quindi Quello non è Indistruttibile E si sbloccano Con carriera Criminale Guru Tecnologico Secretissimo Portate Le pandemoni E questa specie Di coso Database Informativo Con Carriera D'agente Segreto Rame Di agente Diamante Ramo Di agente Diamante Ah Sono belli Però Va benissimo Intanto Vediamo un secondo Questo è sull'abilità Di gioco Va benissimo Tanto noi abbiamo Eccolo qua E' lo abbonatore Di testi Milton Che si fa cagare Però noi ce lo teniamo Lo stesso E adesso ci compriamo PC potenza Integrata Oppure Questo qua Indistruttibile Però Questo 8 e 8 Dai Cioè non possiamo Spendere troppi soldi Per un PC Limitiamoci Limitiamoci Poi magari Ci mettiamo anche Un piccolo Qualcosino Una piccola lampada Vediamo Quale lampada Tipo questa Si può mettere Cacchio È gigantesca Altro che questa Vediamo un po' questa Sì questa qui va benissimo Oh la possiamo mettere Ti piace? Poi possiamo mettere Non so Non so Vediamo che cosa Possiamo mettere Qualche No vabbè dai Rimaniamo così al momento Non voglio spendere Troppi soldi Ok la nostra sim Quindi appena tornata a casa Se ne va vicino al suo bel computer Aumentiamo la nostra abilità Di scrittura E possiamo farlo Scrivendo articoli positivi Su Eleonora De Angelis Ok dai Non so chi è Però potresti Oh Che problema hai Sei tesa? Avresti bisogno di farti Prima Un bagno Una doccia E magari Te ne vai qui A fare un po' di Zapping Mentre la nostra sim Continua con La sua bella Scrittura Vero? Ok dai Continuiamo Continuiamo Va bene dai Te che stai facendo? Stai hackerando? Dai continua C'hai il computer Più brutto La nostra sim C'è Sembra di Essere in un ufficio Adesso Ok dai Te continua E la scrivania è più bella Te lo dico io Lui è grande E troppo voluminosa Però la sua è più bella Dai vai Tanto abbiamo guadagnato 192 Simoleon Va benissimo Dovremmo guadagnarne Molti di più Però è una palla Sta cosa Quindi noi andiamo In questo momento Prima cosa A scrivere Naturalmente scriviamo Un libro E possiamo scrivere Vediamo Starebbe una sceneggiatura Saggio Fantascienza Dai Vediamo come te la capi Con la fantascienza Spero sia Un qualcosa di straordinario Intanto un po' imbarazzata La nostra sim Perché Si è imbarazzata Giorno scolastico Penoso Ma te sei penosa Proprio come sei Dai finiscila Tanto Manuela Cherato Il fondo fiduciario Lotario È riuscito ad acquisire 114 Simoleon Cioè non molti Quindi dobbiamo impegnarci Di più Con questa programmazione Dai Ah inizia un lavoro Freelance Vediamo un po' Cosa riesce a guadagnare È una cospirazione Non esiste un modo naturale Per avere Nella nostra città Così tanti fili d'erba Della stessa Identica larghezza Aiutami a creare Un sito Per rivelare la verità Posso pagarti con Del formaggio grigliato Va bene No? Beh la verità Deve essere Divulgata A qualsiasi prezzo Ma Se ci dai Formaggio grigliato Lo facciamo Perché no? E intanto Cosa stai guardando? Ah Per ricavare idee Ok Così vieni ispirata Vediamo un pochino Bambini No Culinario Guarda i notiziari Cosa succede? Ah Vediamo un po' I notiziari Cioè fatti una cultura Di sicuro sarà molto meglio Ok Vediamo un po' di TG Ok Il Sim TG Ok Vediamo cosa riesci ad imparare Cosa riesci a capire Vai a scuola Devi capire qualcosa Tanto come va il nuovo libro? Dai La nostra piccola giornalista Ragazzi Che fa anche la scrittrice Ormai Cioè Secondo me era meglio L'altro ramo Come si sta comportando Comportando Intanto Che è successo? Jessica ha finito di scrivere Un libro intero Che verrà aggiunto Vabbè al suo inventario Va benissimo Intanto Direi di fare Vescica Fame Dai Vai così La nostra Sim Stessa cosa Vescica Fame Ok Fai fame Si mangia 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 questo Non ne prendere un altro Mangia questo E poi vescica Ci sono due bagni Quindi puoi andare in bagno Il nostro Sim È ancora qui Anche lui avrà bisogno Di vescica Divertimento Fame Magari prima fame Poi divertimento Faremo Tanto vatti a mangiare Qualcosina Abbiamo bisogno Di invitare Un paio di persone Qui Che Siano vive Naturalmente E facciamo Non lo so Invita nel lotto attuale Eh Perché non puoi Ne regge Ne paraggi Ah va benissimo Poi chi ci sta Manuel va bello Nostro marito Veronica È parente a noi Oh Stefano Invita nel lotto attuale Ok Dove sono i nostri amici Dovrebbero stare qui a breve Qualcuno già è entrato Abbiamo bisogno degli articoli Quindi andiamo qui Andiamo a fare Complimento sincero Siamo delle persone Abbastanza gentili Vero? Ma che perché ti siedi? Ma benissimo Dove sei? Qui Abbiamo bisogno Di chiederti L'intervista Sulla vita Ok vai Prosegui Ok Infantile Amante Perfetto Poi c'era L'altro tipo Da quest'altra parte Intervista Sulla vita Ti sei andato a dormire Scusami Ok Potevi socializzare Ma non ci interessa Più di tanto Siamo riusciti A intervistare Anche lui Sulla vita? Andiamo un pochino Dai Intervista per un articolo Poi Non mi ricordo Quindi Discuti dei pasti del gourmet Justo per non Fare sempre le stesse interazioni Ritorniamo Adesso Invece Di nuovo Su Intervista Sulla vita Al nostro amico Ok Riusciamo a fare Quest'intervista Scusami No Io voglio fare L'intervista Sulla vita Al nostro sim Quindi Torno indietro Intervista Sulla vita Intervista Vogliamo intervistare Ok Vediamo un pochino Penso che L'abbiamo fatto Dai Non lo so Quindi Intanto La nostra sim Se ne va a dormire Perché è stanca Ok Abbiamo qua intanto Il nostro sim Che Sta mangiando Magari Si vede un po' Di Televisione Dai Guarda un po' Andiamo Ti piace la tv? Eh Sicuramente Abbiamo una signora Televisione Intanto Chiederei Di Andare un po' Via Questa gente Che non ci interessa più Chiedi di andare via Ok Vai via Ci interessa Ho solamente L'intervista Sulla vita Quindi Cioè Vai Smamma Ok Grazie per la compagnia Non abbiamo fatto niente Riponiamo questo Intanto E poi te ne vai a dormire Ok ragazzi Spero che la casa Vi piaccia Sotto sotto Com'è uscita A breve Avremo un'altra promozione Per quanto riguarda Il nostro sim Manuel Vero? Ti chiami Manuel? Ok Ogni tanto Penso di dimenticarmi Sempre i nomi Comunque Di è che per questo video è tutto Ci vediamo al prossimo Con il completamento Dell'aspirazione Della nostra sim Jessica Che stiamo a 155 di 200 Per questo è tutto Arrivederci Ciao a tutti 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 Ciao a tutti